Per fare il punto sulla situazione dello stadio Tomaselli dobbiamo tornare a circa un anno fa. 960.000 euro di finanziamento con il bando Sport e Periferie per un progetto che prevedeva la posa del manto erboso in erba sintetica e molte altre opere. Lo scopo era quello di rilanciare la struttura ed il suo uso. Gli interventi hanno riguardato la rimozione del manto in erba naturale esistente di parte del terreno, la risacomatura, la riconfigurazione della superficie e la posa in opera di una membrana impermeabilizzante. La realizzazione del sistema di drenaggio dei pozzetti di raccolta dell'acqua e dell'impianto di irrigazione del manto in erba in classe 1 resistente al fuoco come richiesto da regolamento vigente per ottenere le omologazioni previste e passaggio sulla questione che sarà da affrontare riguarderà anche la segnatura del campo per le linee di gioco delle discipline calcio e rugby. E mentre uno striscione dei tifosi durante una partita dello scorso weekend alla squadra di calcio della città chiede di raggiungere un accordo per il Tomaselli e attualmente non fruibile, la replica del primo cittadino passa prima dai social attraverso un post. Abbiamo così contattato il sindaco Gambino che ha dichiarato è stato un modo per sollecitare le federazioni di incontrarsi, di fatto noi ci rimettiamo a loro. Noi abbiamo finito i lavori, attendiamo che esprimano il loro parere per arrivare in tempi brevissimi all'omologazione del campo per ambedue le discipline. Noi siamo pronti.